Io voglio esprimere totale solidarietà al popolo catalano. Non entro nella questione dell'indipendenza. È una questione spagnola, è una questione catalana. A me interessa che i popoli non vengano presi a manganellate e che non si sparino proiettili di gomma nei confronti dei cittadini inermi. Quando si attacca il popolo si uccide la democrazia. Poi si deve risolvere la questione politicamente, giuridicamente e istituzionalmente. Laddove c'è istanza di autonomia e di sovranità e di autodeterminazione noi non possiamo essere che favorevoli. Ma il tema dell'indipendenza è un tema molto delicato che non si può sbrigativamente risolvere da chi non si trova in quei contesti che sono quelli catalani e quelli spagnoli. Quindi ho dato la solidarietà alla sindaca di Barcellona, al popolo di Barcellona che dopo il terrorismo ha vissuto un'altra pagina davvero buia e quella città e quel popolo non lo merita.